Andiamo invece ancora a un altro mega tema mitopoietico, cioè il viaggio, il viaggio di Ulisse, cioè meglio star per mare, star per terra, cioè c'è sempre un ritorno dal viaggio in mare, però il viaggio in mare può essere ovviamente pericoloso, però la terra si arriva, a meno che non si diventa un pesce la terra. In questo caso è proprio questo bravissimo Andrea, questo viveva a Trieste, però ha studiato in Norvegia, insomma la filologia norvegese, un capolavoro di anche paesaggi, in questo caso lui proprio l'ha scritto mentre era in Norvegia a studiare e si vede, se non altro, Garzanti fa sempre delle scelte originali, che è un libro che diciamo non segue almeno apparentemente nessun modello, forse potrebbe ricordare un po' la letteratura americana, la Tom Sawyer, ma neppure, cioè è veramente un libro, lo saprei, un libro a sé, cioè non è noioso nel senso che comunque scorre, succedono degli eventi, comunque questi eventi non portano praticamente a niente, cioè c'è una metafora, sì, della barca, della nave, però ecco, ripeto, non è epica e nello stesso tempo non è neanche banalizzata, nel senso non è spiegata, infarcita, di giustificazioni, no, c'è questa barca, c'è questo, è un buon libro, perché mi sembra appunto una metafora quasi ulissica, però senza saperlo, quindi non c'è tutto l'andiriviene intellettuale, del dire che è una metafora, o di comunque far intendere che si sta utilizzando la metafora ulissica, di epicità non ce n'è, quindi a mio parere è un libro praticamente almeno quello che posso percepire io nelle mie letture finora, che sono comunque almeno di conoscenza tante, quindi sembra un libro quasi sui generis, è unico nel suo genere, però sicuramente no.